Domenica 23 febbraio 2020, 54esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei pesci. La chiesa ricorda San Livio. L'onomastico. Oggi l'onomastico di Livio è Livia. Il nome è di origine latina e significa pallido. Deriva da una delle più antiche e importanti famiglie romane, la Gens Livia. Accadde oggi. Il 23 febbraio del 1445 viene pubblicata la Bibbia di Gutenberg, il primo libro occidentale stampato con caratteri mobili. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 23 febbraio ricordiamo gli attori americani Linda Crystal e Peter Fonda. La citazione del giorno. Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde. Dice il saggio. Chi ascolta troppa gente conclude poco o niente. Il bel paese. La sorgente del Gorgazzo è una grotta subacquea in Friuli dove ha origine l'omonimo torrente nei pressi di Polcenigo. La grotta è costituita da una delle risorgive più profonde mai esplorate al mondo. A nove metri di profondità si trova la statua di un Cristo che grazie all'eccezionale limpidezza delle acque e del fondo, nelle giornate soleggiate, è perfettamente visibile anche dalla riva. Questo luogo meraviglioso, nascosto tra alberi e rocce, alimentato da acque che assumono la colorazione di un azzurro intenso con notevoli riflessi, ha ispirato numerosi artisti ed è anche conosciuto come Delizia e Tormento dei Pittori per la variabilità dei colori a seconda dei cambi di luce.